iOS 11, la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad, potrà essere scaricato a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Le sue novità principali erano state presentate lo scorso giugno durante un evento a San Francisco, ma da allora Apple ha lavorato per aggiungere ulteriori funzioni e modificarne altre, anche basandosi sulle segnalazioni di chi produce le app e degli utenti che in questi mesi hanno utilizzato la versione di prova di iOS 11. Il nuovo sistema operativo funziona su tutti gli iPhone dal 5S in poi, e sugli iPad dal Mini 2 in poi, con qualche limitazione per i modelli più datati. Tra le novità più interessanti ci sono un nuovo centro di controllo, un sistema rinnovato e più pratico per fare gli screenshot, una nuova e più ricca versione di note, filtri per la fotocamera, un sistema di gestione della memoria più pratico e numerose innovazioni per gli iPad, a partire da un dock per le app simile a quello dei Mac.